Il pileto del neotecnico Ivan Tisci riparte con l'atteggiamento giusto dopo due capò di fila pari sul campo della Vis Pesaro 4-3-3-2-1 che dir si voglia in difesa ritrova la titolarità Siozmanovic soprattutto germinario a centrocampo finora impiegato con il contagocce davanti del sole Bruzzaniti a supporto di Fabrizi nella Vis lo squalificato stellone In panchina Andrea Gennari cambia sistema di gioco 4-4-2 esterni molto offensivi da una parte l'italo-cileno-oreiana dall'altra Paganini in attacco il tandem Nicastro-Cannavò consueta fase di studio ma subito aggressivo il Pineto che la sblocca alla ventesimo su calcio di punizione destro chirurgico del solito Bruzzaniti Vukovic battuto quinta rete in campionato per il 24enne attaccante arrivato in estate dal Crotone Momento propizio per l'undici di Vantisci che crea i presupposti per il raddoppio minuto 29 rapida transizione Bruzzaniti germinario colpo di tacco per la conclusione di Siozmanovic Vukovic ci arriva Bruzzaniti alimenta palla in mezzo per del sole che tocca con il braccio La Vis reagisce e risponde al trentesimo chance per il centrale di difesa Bove che spedisce alto da ottima posizione preludio tuttavia alla pareggio super giocata di Orellana che riceve da Paganini gran controllo e quasi in caduta Mancino da urlo 1-1 Prima rete tra i professionisti per l'italo-cileno classe 2001 lo scorso anno in D nella Varesina Sulle ali dell'entusiasmo la Vis spinge il Pineto Rischia 35esimo Cannavò travolto in aria e occasione gigantesca per Zoia frustrata dall'ottimo Tonti superlativo alla 44esimo su questa girata di Nicastro servito da Bove Autentico prodigio dell'estremo abruzzese nella ripresa meno emozioni un cross tagliato di Bruzzaniti mette in crisi la difesa di casa Fabrizi devia di testa Palomba ci mette una pezza Zoia passa destra per contrastare meglio Bruzzaniti ancora 3 milioni del Pineto insieme con Tonti al 28esimo pericoloso Cannavò dal limite Due minuti più tardi Di Paola subentrato a Obi, suppiazzato da posizione decentrata sempre attento a Tonti che si rifugia in angolo Nei 4 di recupero non accade altro, atteggiamento giusto finisce 1-1